Quattro anni di carcere e mille euro di multa e questa la condanna infrita ieri dal giudice Domenica Gambardella a due rapinatori catanesi. Da Catania erano saliti in Veneto per derubare banche come il 21 novembre del 2014 a Trebaseleghi in cui tenero ostaggio per più di un'ora il direttore della filiale dell'Unicredit in attesa dell'apertura della cassaforte. Alla fine avevano portato via un bottino di oltre 70.000 euro. Ora è arrivata la sentenza con rito abbreviato.